Un incontro dibattito sul futuro del porto di Porto Torres. Lo ha proposto ieri sera, nella sala convegni della Camera di Commercio di Sassari, la Fondazione Antonio Segni. Con la fine della petrolchimica, lo scalo turrittano deve ripensare il proprio sviluppo, senza però mettere completamente da parte proprio l'economia legata alle imprese industriali. Occorre allora puntare su qualcosa di differente, i numeri aiutano a capire. L'autorità portuale della Sardegna a gennagio scorso ha rilevato che nel 2017 sono arrivate nell'isola oltre 260 navi da crociera, per un traffico di 565.000 croceristi, a cui si aggiungono 5.600.000 passeggeri dei traghetti. A Porto Torres si sono fermate 27 navi con 35.900 croceristi, mentre sono stati 993.000 circa i passeggeri dei traghetti. Dovremmo fare uno sforzo creativo per far funzionare il porto di Porto Torres per quello che è in questo momento, magari avendo il coraggio di dire che certi progetti potevano essere fatti diversamente, mentre altri arrivano troppo tardi, ha commentato il sindaco turrittano Sean Wheeler. Per potenziare Porto Torres occorre che in Sardegna ci sia un'unica cabina di regia, attenta a valorizzare però la vocazione di ciascun porto di competenza. «Allora è importante costruire collegamenti e sinergie con altre realtà del Mediterraneo», ha ricordato Massimo Dejana, presidente dell'autorità del sistema portuale del mare di Sardegna ed ex assessore regionale dei trasporti. «I porti sono lo specchio del loro entroterra e noi non stiamo ancora ragionando strategicamente», ha avvertito il sindaco di Sassari Nicola Sanna. Il dibattito è stato moderato dal presidente della fondazione, Mario Segni.